Siamo con Laura Caravini, senatrice uscente, candidata per la lista e voazione nella ripartizione Europa alla Camera. Quali gli obiettivi? L'obiettivo è quello di diventare il terzo partito in Europa. Il sistema ce lo permette, quindi il voto a noi è un voto non utile, bensì utilissimo, proprio perché ci può consentire di impedire che le destre più becere possano conquistare il terzo seggio. Quali gli impegni per gli italiani all'estero? Quali gli impegni principali? Innanzitutto evitare che vengano rimossi i successi che abbiamo e che ho conseguito negli ultimi anni, per esempio l'incremento dell'esenzione IMU per i nostri connazionali per settori di una pensione, e poi ampliare questi diritti, ampliare e migliorare la situazione nei consolati, ottenere più risorse per corsi di lingua e cultura, e poi tutta una serie di altri successi e obiettivi che si possono trovare sul mio sito www.garavini.eu 9-18-19-209-24-1-2-PS Obre Il Rezicable